salve a tutti allora oggi volevo farvi vedere cosa mi porto dietro quando vado a fare allenamento di quello tosto e soprattutto quando non sono molto sicuro di che frecce userò allora prima di tutto all'interno ci sono le frecce di van gerwen da 21 da steel poi ho le frecce di barney da 19 con la punta di steel di quella di ferro praticamente questo qua è l'altra di van gerwen di 18 con la punta in ferro ma sarebbe una frecce da soft sia questa che quella di barney però le uso lì per qua c'è il bucalette qua varie frecce punte di ricambio qui c'ho la bolla per misurare se il bull è dritto con la bolla vedete qua abbiamo un colmo di 95 che uso anche queste ultimamente però sono 24 che sono un po pesanti qua ho già alette pronte sotto ci sono le punte da soft della borsetta come vedete il tubetto qui ho altre alette pronte solo da mettere su e qua abbiamo di tutto vari tipi di code varie lunghezze tutte le varie alette di tutti i tipi per provare come potete vedere vate che resta di roba poi so qua dentro c'ho l'inferno alette tutto un casotto la tessera l'italian dars alette di ogni tipo poi c'è questo che è quello per fare la punta è importantissimo poi apriamo questo ho fatto lo gancio perché sennò è un allirio qui varie alette di ogni genere anche qua come vedete su quelli di van gerven ci sono quelle della target quella di raymond barnen poi c'è questa letta fighissima che non ho ancora mai usato non so perché qua ho le vere frecce montate esattamente come quella di van gerven da 23 questa è esattamente la fresca di van gerven come quella che usa lui e ogni tanto gioco anche con questa qui c'ho la steve beetle che sono una delle frecce più fighe che esistono nell'universo e sotto dovrei avere a sottosia sotto anche altri un altro paio di frecce che sono quelle di rock cross me le porto dietro ma non ma che sia che qui invece praticamente ho una quintalata di coda diversa per le varie prove anche qua dentro ho un po di casotto ma non siediti di che questa è la mia borsa che mi porto dietro per l'allenamento questa è la borsa che mi porto dietro per l'allenamento come vedete un sacco di roba punta e code alette freccette di ogni tipo anche se poi alla fine sono sempre le stesse però queste sono quelle di domani vi farò il video di quello che porto quando faccio le gare sia per soft che per stelle saluta tutti